Dopo le otto ore di occupazione dell'Ateneo di Bari, la linea del dialogo ha prevalso almeno per ora. Tolto infatti i catenacci e i cancelli, si è passati alla fase costruttiva. Gli studenti contestano la proposta che prevede rincari dal 25 al 27% sulla contribuzione studentesca. Il rettore si dice aperto ad ascoltare le proposte degli studenti. Quando si realizza il dialogo e le posizioni, anche se non sono coincidenti, quando c'è una posizione critica, anche profondamente critica, attraverso il dialogo si arriva sempre all'individuazione di una strada in cui confrontare le proprie ragioni per cercare, se è possibile, di arrivare ad una soluzione condivisa o anche parzialmente condivisa. Si poteva sanare il debito azzerando tutto, così come ha fatto qualche altra università, dice il magnifico lontano dal microfono, ma non potevamo offrire una università senza servizi. D'altronde per far fronte al buco da 52 milioni di euro bisognava far pure qualche taglio e si è deciso di incidere solo per un 40% sugli studenti, con il conseguente malcontento da parte di dipartimenti, professori e altri settori delle università. Gli studenti, le cui proposte sono al centro della riunione della Commissione Tasse, vorrebbero che si estendesse la fascia di quelli esclusi dal pagamento delle tasse che finora riguarda le fasce di reddito fino a 13 mila euro. C'è la possibilità di allargare la no tax area? Vediamo, questa è una delle ipotesi. Ho convocato ad Oras la Commissione Tasse, noi stiamo parlando adesso e loro hanno cominciato a lavorare da poco, con il preciso mandato di vedere se è possibile operare un'integrazione fra quella che, lo debbo ricordare perché qui molte cose non vere sono state dette, che è una delibera del 2004. Nella prossima riunione del Consiglio di amministrazione prevista per il 25 maggio si metterà la parola conclusiva sulla questione tasse, che potrebbe riesplodere quindi a breve.